Domenica ricorre il settantesimo della liberazione della città di San Severino Mar, che sarà ricordato con una serie di cerimonie. Fra queste lo scoprimento di una lapide dedicata a Carlo Abba Magal, un etiope che si uni alla lotta partigiana a San Severino. Ricorderemo questa preziosa figura che testimonia non solo la presenza di un africano nella resistenza, in particolare settempedana, ma anche l'accoglimento e la capacità della popolazione locale di coprire non solo un partigiano, perché ricordiamo che Carletto, così lo ricordavano i partigiani dell'epoca, si unì al battaglione Mario e quindi la capacità della comunità locale di cogliere e nascondere una figura certo non così evidente all'epoca. Quindi siamo fieri di collaborare con l'Istituto Storico della Resistenza e l'AMPI di restituire giusta luce a questa figura.